Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo come si crea un contro rovescia con il numero che volete voi, cioè partendo da 30, 45, quello che volete con un semplice link impostato in una fonte di OBS Studio senza tenere sempre il browser aperto Allora iniziamo con aprire il nostro browser e andare su una pagina ben precisa che adesso vi farò vedere bene il link qual è ed è con l'https all'inizio perché è una connessione protetta online-timer.it.downloadastro.com questo è il link ok, questo link qui ok, questo link qui vi apre questa pagina che ha il contro rovescia vuoto che ci mettete quello che volete adesso io lo uso per default 30 e premete play qua il contro rovescia comincia a lavorare ma quello che è importante è questa cosa qui questa cosa qui che dopo la scritta tools c'è l'hashtag e un numeraccio quel numeraccio è esattamente il vostro contatore che dovete copiarvi quindi seleziono tutto questo ctrl x fatto e adesso possiamo direttamente chiudere il nostro browser e aprirci OBS questo è l'OBS non ci interessa che è una composizione fatta da schifo OBS che vede OBS non vedo neanche il mio webcam quello che voglio è creare il mio contro rovescia allora su windows cliccate avete già browser e vi cercate la fonte browser a posto su linux dovete scaricare il pacchetto aggiuntivo per linux browser che trovate nel sito di OBS studio nel forum e poi vi appare linux browser qua scrivo conto alla rovescia faccio ok qui dove c'è url incolliamo il nostro link compreso il numero dopo l'hashtag si dopo un po' carica nuova la pagina ecco la nostra pagina ecco se vedete adesso c'è una bella pubblicità è apparso per un po' il nostro contatore però c'è una bella pubblicità che occupa la parte alta della finestra qui c'è una barra però questo non è un browser è un visual datore statico della pagina quindi qua sotto ho delle opzioni vertical scroll e che sarebbe dire va in basso ne metto 800 e riesco a vedere il timer ah riesco a vedere il timer quindi è come se a manina avessi premuto sulla barra l'avessi portata giù e avessi fatto il vertical scroll praticamente poi gli dico leva la hide scroll bar cioè leva nascondi la scroll bar e cosa è importante reload on active adesso sta già contando 29, 28, 27 se lo lascio così non partirà dal nostro numero quando lo attiviamo quindi bisogna mettere questo flag per dirgli parti dal numero che vogliamo noi quando sei attivo così il nostro video parte da 30 per esempio come l'abbiamo pensato noi adesso e non ho altre impostazioni che uso per adesso quindi tutto il resto lo lascio così com'è allora abbiamo questa pagina che fa veramente schifo e c'è questo contatore che se io adesso lo nascondo lo riattivo eccolo qua che si è risettato 29, 28, 27 e hai iniziato a fare il suo contatore rovescia corretto quindi questo è il reload on active ma pubblicità sotto barra e sopra i pulsanti pausa e x che non voglio la scritta timer che non voglio come facciamo a levare tutto questo filtri più il taglia ok e qua dovete andare a interagire con il taglia a sinistra levo 300 300 ok mi posso anche azzardare 320 non 3.020 ok in alto 150 160 dovete lavorare così di fino a voi cioè mettere i numeri e provare finché non vi piacciono poi a destra vediamo 100 300 30 allora un po' troppo vediamo 20 ok mi può andare bene e sotto in basso 200 300 400 ecco già 400 è troppo quindi 350 3 70 80 ok mi posso contentare 385 84 83 ok sono finezze stupidate ok chiudi ho questa scritta molto piccola del contro rovescia posso anche ingrandirlo ok adesso lo nascondo quindi non è più attivo quando ritorna attivo riparte il conta quindi mi raccomando vedete che quando riparte ci mette qualche secondo per fare un reset e tornare a funzionare ok quindi non iniziate subito il video tutorial vabbè detto questo abbiamo un'immagine che contro rovescia però su questo sfondo bianco che per me è bruttissimo sono riuscito a capirmi su come levare lo sfondo bianco allora prima di tutto abbiamo un'immagine nera su sfondo c'è la scritta nera su uno sfondo nero allora andrò a prendermi un'immagine chiara eccola qua questa mi può andare benissimo la sposto sotto il contro rovescia e abbiamo questa immagine chiara con il contro rovescia sopra prendiamo il contro rovescia filtri e vogliamo levarci il nostro sfondo bianco chiave colore ok verde no colore personalizzato scegliamo il bianco ok comincia a sparire lo sfondo ma rimane il bordo bianco allora cosa faccio aumento la soglia colore aumento anche un po' la finezza però adesso l'immagine diventa grigiolina no nera allora se levo contrasto e luminosità diventa nera e praticamente guardate adesso l'immagine scritta come è venuta molto bella perché è esattamente nero bello liquido su sfondo bianco si legge molto molto bene adesso se io volutamente cancello lo sfondo chiaro sfondo chiaro questa scritta non si legge più è una merita schifezza allora apposta adesso contrasto alto e luminosità alta e lì la scritta diventa bianca e si legge un po' di più quindi siccome lo sfondo è scuro in alcune parti dove è veramente scuro ok allora io ragiono in questo modo non esiste uno sfondo totalmente scuro o totalmente chiaro infatti se vedete per esempio questo sfondo qua è chiaro è seguito le scritte lì non si legge niente ma qua è scuro allora trovatevi un punto dove sapete che la maggior parte le volte lo lo sfondo o quello che si vedrà sarà sempre o scuro o chiaro e scegliete se avere le scritte bianche o nere e così non mi rompete le scatole e dovete fare cambi di contro rovescia e dovete far partire due uno sopra uno sotto che no per esempio qui è un punto dove il contro rovescia sul sfondo scuro si vede bene e lo lascerei lì per tutto il video tutorial magari sapete che per qualche minuto quando si apre una pagina bianca lì non si vedrà più il contro rovescia vabbè è un peccato però per adesso io mi accontento così oppure ci dovrà trovare in un prossimo tutorial come cambiare il volo il colore del contro rovescia in base a quello che c'è sotto e magari lo farò in un prossimo tutorial comunque per adesso vi ho fatto vedere come si gestisce un contro rovescia col colore o bianco o nero e sfondo trasparente per questo video tutorial è tutto